Musica Bolle giganti, oggi scorreremo come farle O come ottenere i migliori risultati in 27 modi possibili A presto, anzi seguitemi Ora che mi avete seguito nel mio laboratorio cercherò quest'oggi di proporvi ben 27 ricette di bolle di sapone Ma soprattutto capire con metodo quale è la migliore per le nostre esigenze Ovvero vogliamo fare bolle giganti, vogliamo fare giochi con le bolle Oppure vogliamo semplicemente far divertire i nostri bambini o divertirci e tornare noi bambini insieme alle bolle di sapone Quello che voi osservate in questo momento è una lamina di sapone Come dovete ben sapere, le bolle di sapone altro non sono che acqua a cui è stato aggiunto un tensio attivo Questo tensio attivo ha, come il nome suggerisce, la capacità di abbassare o almeno di agire attivamente sulla tensione superficiale dell'acqua E questo rende possibile realizzare le bolle di sapone Un'altra caratteristica molto importante per le nostre bolle di sapone sarà quella di avere una viscosità o almeno una densità Che permetta all'acqua di non andare troppo velocemente giù O almeno di precipitare a tratta della forza di gravità in basso Rendendo così la parte superiore della nostra lamina molto più debole e far concentrare così tutto in basso l'acqua Dovremo cercare in qualche modo un equilibrio tra le due cose Ok, abbiamo capito che per fare le nostre bolle di sapone abbiamo bisogno di tre ingredienti principali Che sono acqua, un detersivo e soprattutto dell'addensante E quest'oggi vi proporrò ben tre tipi di ognuno di questi Se vi siete stancati di starmi a sentire potete seguire in questa scheda un link video in cui ho già spiegato come poter fare le bolle di sapone in maniera molto... Allora, prima di procedere in questo video dovrei un attimo soffermarmi a mi riflettere Conviene che io riveli anni e anni di studio che ho fatto per ottenere una buona ricetta Ma soprattutto non tanto la ricetta, tanto il modo per ottenere la miglior ricetta Dopo tanti anni di spettacoli strada, qualsiasi persona che io ho incontrato mi ha chiesto e richiesto la mia ricetta di sapone E io in qualche modo la sempre resistivo a dargliela perché erano anni e anni di frutti di miei studi e di miei lavori Ma soprattutto di soldi che io ho investito per trovare la mia formula perfetta E adesso cosa ci guadagno? Bene, ve lo chiedo direttamente a voi Io cosa ci guadagno? Probabilmente un po' di pubblicità, un po' di visualizzazione Ma giocando sul principio dell'offerta libera che tanto, tanto mi sta a cuore Oggi io vi lascio qui sotto sul mio video in descrizione il link per i pool dove potrete lasciare una dotazione Se troverete utile questo video ma soprattutto se troverete folle questo mio gesto Perfetto, ora che ho fatto un ritratto della spensione e incorniciato il modo con cui potete dare concretamente una mano Come io adesso ve la sto per dare Proseguiamo con l'utilizzo di alcune schede fatte da me per andare ad analizzare le caratteristiche dei nostri ingredienti E cosa dobbiamo prendere in considerazione per ottenere il miglior risultato E lo faremo con l'utilizzo di queste schede tecniche che adesso comparitano Almeno sono già comparse Andiamo a parlare dell'acqua e per l'occasione mi sono fatto prendere una bel campi di bagnette Ah, sì, ora che sono bel fresco e bagnato Andiamo a vedere da vicino i nostri ingredienti Ossia l'acqua in bottiglia, l'acqua di rubinetto e l'acqua di sillata Ma poco prima vorrei fare un accenno e un approfondimento su questa bellissima sostanza che sta alla base della vita Dato che la batteria si sta per scaricare senza troppi intugi vi presento l'acqua O almeno quello che nel nostro immaginario Altro non è che un atomo di ossigeno, un atomo di idrogeno insieme a un altro atomo di idrogeno Che sono covalentemente legali tra di loro per un legame Almeno me la sono ricercita così Ora, perché stiamo analizzando questa cosa? La cosa è perché l'acqua è un insieme di queste molecole O almeno di questa sostanza molto particolare Che in teoria non dovrebbe galleggiare, si dovrebbe disporre in una maniera molto più particolare Ossia un modo che, come potete vedere Aspettate, super zoom! Vedete questa linea sottile? Bene, quella è la manifestazione della tensione superficiale dell'acqua Ma non solo l'acqua ha questa caratteristica Ma a noi ci torna molto utile Allora, dato che le molecole d'acqua qui si possono distribuire in maniera molto ma molto più eterogenea E quindi si riescono a disporre secondo le caratteristiche del loro equilibrio elettromagnetico Almeno non so se si dice così Qua invece si va a creare questo fenomeno Ovvero la disposizione molecolare degli atomi non è più molto regolare E quindi subiscono una pressione, una tensione Quando vedete... Aspetta, adesso rubiamo delle immagini di repertorio da YouTube Può camminare sull'acqua Solo alcuni leggerissimi insetti riescono a camminare sull'acqua Perché sono sostenuti dalla tensione superficiale Una sorta di pellicola creata dalle forze che tengono insieme le molecole d'acqua Bene, ora che abbiamo capito che cos'è sta tensione superficiale Andiamo a vedere le caratteristiche di queste tre acqua Almeno l'acqua in bottiglia ha un costo non troppo elevato Però agliello ambientale io la sconsiglio Perché comunque stiamo andando a consumare acqua potabile E non solo in plastica Per andare a fare delle bolle Ma dall'altro canto L'acqua così di rubinetto Purtroppo non da tutte le parti è buona E infatti avere il controllo del pH Della durezza Quindi tutte le impurità che ci sono al suo interno Non ci è dato saperlo al 100% Mentre come abbiamo visto nell'acqua in bottiglia Abbiamo qua tutti i schemi, tutti i valori Vabbè, non siete niente, è sfogato ma mi fidate E mentre questa è l'acqua distillata Cioè questa è chiaramente acqua pura al 100% Cioè è solo H2O Ma qual è il suo problema? Che tanto è pura, tanto la sua tensione è più forte E quindi niente, cioè quello che a noi ci servirà è molto più sapone Adesso, eh, in cambio in maglietta E intanto mi sta svedendo il raffreddore per l'acqua di prima Nel frattempo, ecco qui, questo è il sapone biologico Il sapone commerciale Il sapone professionale Vedete? PG Quello che ci interessa a noi è cosa accade Quando queste sostanze si vanno a mescolare con l'acqua Vabbè, abbiamo capito che si va a rompere la tizione superficiale Ora, senza andare a spiegare il fio per segno Il perché il tensio attivo abbia una struttura Da una parte idrofoba e da una parte invece idrofila Aspettate Qua cosa abbiamo tra le nostre mani, o almeno nelle mie mani Quello che, come stavo cercando di spiegarvi prima La rappresentazione del tensio attivo Il tensio attivo ha quattro famiglie Ma questo a noi non ci interessa Che si distimulano a causa della loro testina La cosa che più le caratterizzi è questa lunga coda Che praticamente all'acqua gli puzza E quindi dice no, io vicino all'acqua ci voglio stare Mentre questa testina è idrofila Ama l'acqua e quindi cosa succede? Quando si trova in presenza dell'acqua e della sua tensione Questa cosa fa? Entra in gamba tesa e distrugge la tensione superficiale Aumentando così la capacità di detergere O almeno di legarsi all'acqua con sostanze sia polari che non polari E quindi praticamente aumenta la capacità di bagnare, tra virgolette Qualsiasi sostanza e non solo Infatti aumenta la capacità di detergere qualsiasi Cioè vedete la capacità Non vado a spiegare io Quante pubblicità avete visto su Instagram per piatti Ecco dai, andiamo avanti C'è una grande novità La schiuma di sole piatti contiene le proteine naturali Che proteggono le mani già durante il lavaggio Sole piatti è un angelo sulle mani Nuovo sole piatti Un diavolo sui piatti Un angelo sulle mani Perchè bene Cambio maglietta e si va a parlare degli addensanti Qual dietro la mia schiena Ossia sulla fiducia, dato che non ci sono etichette a disposizione Vi dovrò parlare di quello che altro non è Che zucchero Etidre Etid Ecco Ecco Non è stato tappato E quindi Etil Idrossidi etil cellulosa E soprattutto il Peo Cioè Queste farine polimeri alimentari Che vengono utilizzate spesso e sovente Mentre dalla pasticceria Mentre l'ecco viene utilizzato Alcuni di voi lo sapranno Per fare gli slime Con le gelatine appiccicose E lo zucchero Vabbè sappiamo che cos'è lo zucchero Un attimo Vi dico un segreto In molti video su youtube E in giro su ricette Blog e roba del genere Quando si va a parlare degli addensanti Della glicerina Dello zucchero Per le nostre bolle di sapone Viene fatto riferimento All'evaporazione della bolla Cioè quindi Queste sostanze servono A non fare evaporare L'acqua contenuta Nella bolla di sapone E' una stupidaggine Infatti Questo non è il vero motivo Per cui vengono utilizzate queste sostanze Ma Il vero motivo E' quello di Non far scivolare Troppo velocemente Dell'acqua in basso Creando così Una differenza Tra le pareti Della bolla Quindi lo spessore Della labbra di sapone Troppo sostanziale Dal sopra Al sotto Non a caso Infatti Qui usa Troppo additivo Troppa glicerina Si troverà invece A trovare Una bolla Troppo pesante Che farà Anzi andiamo a vedere Anzi andiamo a fare Finalmente queste ricette Prima di andare avanti Oltre a farvi vedere L'incuria Della mia peluria Da quarantena Vorrei precisare Un argomento Che è quello Delle misure Infatti noi A breve Andremo a utilizzare Delle misure standard Ossia Dieci d'acqua Uno di sapone E un terzo Di additivo Rispetto al sapone Ma queste misurazioni Non sono ottimali Per la singola sostanza O almeno Dato che voi Andrete ad acquistare Delle sostanze Differenti Delle marche E quindi qualità Più o meno differenti Da quelle che io ho utilizzato Io vi consiglio Una volta trovata La ricetta Che vi è grata Di fare un processo Di saturazione E desaturazione Della sostanza In maniera tale Da trovare Il quantitativo Ottimale Per la vostra ricetta Che non sarà Per forza Questo rapporto Come abbiamo visto Di 10 Uno Un terzo Ma potrebbe variare Infatti per esempio Soprattutto nel mercato Dell'ec Ci sono vari Vari Tipologie La sostanza È la stessa Però viene raffinata In maniera molto differente Tipo alcuni Vengono utilizzati Per fare lubrificanti Altri per fare Additivi alimentari E questo Cambia sulla capacità Della viscosità Cioè del ppm Vabbè Il peso molecolare Andiamo a Maglietta bianca E sfondo in bianco Serve a ricordarci Il fatto che abbiamo utilizzato L'acqua di sillato Come base Della nostra ricetta Dopodiché Abbiamo utilizzato Il sapone biologico Il sapone commerciale E il sapone professionale Mentre da questo lato Possiamo notare L'uso di polimeri Etilcellulosa Che chiameremo adesso Ecc E zucchero Ora io ho già fatto i test E sono rimasto molto deluso Dal fatto che Il sapone professionale Abbia creato Insieme all'ec Quindi all'etilcellulosa Uno slime Cosa che non è avvenuta Utilizzando il sapone Quello commerciale Come possiamo notare È rimasto molto Liquido Anche se Con questo rumore Ci rende Consci del fatto che C'è ancora troppa Coesione molecolare Quindi è molto teso Mentre con il sapone biologico E l'etilcellulosa È venuto Un risultato che è sempre Molto scarso Quindi la migliore Ricetta al momento Che è uscita fuori Utilizzando come base L'acqua distillata È stata utilizzare Lo zucchero Il sapone biologico Cioè mai mi sarei aspettato Una rivelazione genere Ma Maglietta grigia E quindi Sfondo grigio E siamo perciò Per andare a trattare L'acqua di rubinetto Come base Per la nostra ricetta Ormai avete capito benissimo Come funziona Qui in questa griglia E già da adesso Posso dire che Che sono andate un po' a merda Ma ci sarà un motivo Speciale per ciò Ma ora muniti nel nostro Bellissimo cerchietto Andiamo a vedere Il primo Quindi zucchero E sapone biologico Sempre un effetto Abbastanza carino Adesso è il turno De sapone biologico E ecco Vengono tre Ma che dite Questo lo salto Ovvero Sapone biologico E Polimero Intanto ho mandato Il sapone Sull'obiettivo Ma ci interessa Certo che no Allora passiamo Al sapone commerciale Zucchero Vediamo Sapone commerciale E deck Ma sempre così Cioè Praticamente Il sapone Biologico Si sta rivelando Il top Adesso è il momento Di usare Il nostro sapone commerciale E il polimero Per fare la bolla Vediamo se riusciamo A fare un bonus Ecco Già il fatto Di riuscire a fare La bolla Dentro la bolla È un buon segno Andiamo a vedere Adesso Il nostro Sapone professionale Come si comporta Con lo zucchero E acqua di rubinetto Ma 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 Sto notando Con qualche disappunto Che utilizzare L'Eck E il sapone Professionale Va a creare Sempre uno slime Utilizzare Polimeri E l'Eck Cosa sa già Dato che Ogni volta Si creano Questi grumi Fastidiosi Che impediscono Una corretta Miscelazione Della nostra ricetta Ma Come possiamo notare Se si stanno Un pochino attenti Vengono tantissime bolle Wow Il fatto delle magliettate Significa che Stiamo per andare A utilizzare Come base Nella nostra ricetta L'acqua in bottiglia E posso subito dire Che con i polimeri È andata veramente male Infatti Guardate il risultato Cioè il risultato È qualcosa di gelatinoso Che Non uscirà mai Una bolla Perciò Sapore biologico E Eck Vediamo come Esce fuori la bolla Ah Abbastanza soddisfacente Ora vediamo invece Con lo zucchero Cosa ci combinerà Ok Abbiamo visto che Acqua di rubinetto E il sapone biologico A queste misure Va abbastanza bene Qualche bolla Ce ne esce Ciò Deterviamo commerciale Zucchero Cosa ci combinerà Giriamo Mescoliamo E Una sola Polla Questo sapore commerciale Da tutti i fronti A quanto pare È stata la peggiore Perciò Andiamo a testare L'ultima chance Del sapore Ah oh eh Acqua in bottiglia Sapore Professionale E zucchero Momento della verità Che cagata Chiarissimi È Dovamente successo Ovvero Il sapore professionale Con l'Eck Ha reagito In maniera tale Da creare lo slime Però Però Eh Eh Allora Quindi Quest'ultima fase Abbiamo scoperto Della top Ora Questa è la degna conclusione Di questa giornata Fare tantissime bolle Ma soprattutto Tutte le 27 combinazioni Delle nostre ricette Travasarle Buttarle In un unico contenitore E divertirci Fino all'esaurimento Con le fantastiche bolle colorate Che ne usciranno fuori Ora Cari miei Se siete stati qui Solo per recuperare Una ricetta professionale Per bolle giganti Bolle per le sculture L'unica cosa Che dovete fare Sensata fin dall'inizio È quella di andare Il link in descrizione Qua sotto E lasciare una bellissima Offerta libera Al link Paypal A me indirizzata Se attirate la mia attenzione Di sicuro Io vi manderò Non solo un campione Della ricetta Un litro Di questa ricetta concentrata Ma anche la formula È esatta Nonché i link Per andare a recuperare Online Tutti i materiali necessari Perché molto importante Una cosa che devo ricordare Che ogni ricetta È basata sugli elementi Che voi andate a comprare Quindi Se non compriamo Gli stessi materiali Come possiamo avere La stessa ricetta Spero che il video Vi sia piaciuto E che vi ho intrattenuto Quel poco In maniera divertente Perché condividere Questo video Ecco La ragione è Questo quaderno Scritto da me Con tutti gli appunti Non solo delle marionette Che stanno un po' In background Qua Addirittura marionette Che fanno le bolle di sapore Ma voi riuscite a vedere bene Non solo Ma qua abbiamo Anche Vabbè Tentativi di logo Ma Il ricettario Con tutte le formule Ingredienti E le curiosità Ci sono importanti Su tutta la viscosità Del pH Ehi Ehi